Ed ora... Il pranzo. Ed ora... Il pranzo. Sono tutti contenti, si vede che il ballo è piaciuto. E deve ancora arrivare il meglio. Suggerisci il prossimo? Qualcosa di ok! Oh, classico! Dolce e divertente! Sei forte, Gidi! Dai tu l'attacco! Nella cantina di un palazzone Tutti i gattini senza padrone Organizzarono una riunione Per precisare la situazione Dai! Quaranzo a quattro gatti In fila per secco, il resto di due Si unirono con fatti in fila per secco, il resto di due Con i baffi allineati in fila per secco, il resto di due Le code assorciate in fila per secco, il resto di due 6,7,42, più 2,4,4 Loro chiedevano a tutti i bambini Che sono amici di tutti i gattini Un pasto al giorno e all'occasione Poter dormire sulle poltrone 44 gatti in fila per secco, il resto di due Si unirono con fatti in fila per secco, il resto di due Due baffi allineati in fila per secco, il resto di due Le code assorciate in fila per secco, il resto di due 3,7,42, più 2,44 Quando alla fine della riunione fu definita la situazione Andò in giardino tutto il plotone di quei gattini senza padrone Ma come? Un aranza a quattro gatti in fila per secco, il resto di due Alzarono con fatti in fila per secco, il resto di due Due baffi allineati in fila per secco, il resto di due Le code tritte, tritte in fila per secco, il resto di due Corazzo di due Corazzo di due Corazzo di due